Adesso cercherò di rivoltare... Meryl Streep e Julia Child, autrice di una famosa opera culinaria Com'è buono, eh? La cui esistenza incrocia quella di Julie Powell, Amy Adams Imparare l'arte della cucina francese Il cui progetto è sperimentare e raccontare in un blog tutte le ricette contenute nel libro Ancora 353 giorni al traguardo Messo sul fuoco il pollo con panna Per il ciclo Un sorriso al giorno? Julie & Julia, martedì alle 21.05 Ci sarà qualcuno che mi legge? Grazie a tutti